Dubbi, preoccupazioni, incertezze. Il futuro, anche per i commercianti di Casal Maggiore, è una grossa incognita ai tempi del coronavirus. Già provati dal primo lockdown e in precedenza anche dalla chiusura del ponte, che collega Lombardia ed Emilia Romagna, che è stato aperto al traffico in senso assoluto e senza limitazioni per poco tempo, ora sono di nuovo in grande difficoltà. Il Comune ha messo in campo alcuni aiuti, dall'Atari scontata ai plateatici gratuiti. Le nostre attività commerciali, anche quest'estate e così, si erano tutte attrezzate, avevano fatto investimenti in sicurezza e potevano andare avanti chiaramente in sicurezza. Questa chiusura improvvisa sicuramente ha un po' messo in difficoltà tutti i commercianti, ma li ha anche un po' agitati per il futuro. Molte categorie sono infatti state fortemente penalizzate. Abbiamo dovuto affrontare questa nuova avventura, mettendoci dopo il primo lockdown, mettendo tutto a norma, affrontando quindi delle spese, dei pensieri, degli sforzi e per poi trovarci ancora un'altra volta in ginocchio. Vogliamo assolutamente far capire alla gente, ai nostri governanti, che abbiamo fatto tanti sforzi, abbiamo avuto tante spese e che non ci abbandoni in questo periodo qua. Faccio parte del mondo dello spettacolo, quindi di quelli che più o meno sono a casa da otto mesi. Abbiamo avuto perdite consistenti. Non capiamo esattamente quali siano le posizioni e i modi con cui vengono amministrate in materia di sostegno. Siamo di nuovo fermi, siamo appunto a capo, come lo scorso marzo-aprile, ci ritroviamo di nuovo in ginocchio. Tantissimi problemi, pochi incassi, tante spese, fornitori da pagare, affitti da pagare e così non si può andare avanti. O lavoriamo o finiamo di lavorare. Le nostre attività hanno subito il colpo sicuramente. Adesso non ce l'aspettavamo di doversi fermare ancora. Il tessuto economico ha subito un duro contraccolpo in questi mesi. Ci sono negozi che sono veramente allo stremo.